Ciao a tutti ragazzi, ciao di nuovo, oggi nuova giornata, nuovo spray paint, ci facciamo qualche cosina anche oggi, quindi ancora non so cosa, vediamo cosa succede. Io mi chiamo Mauro e ti invito a iscriverti al canale e se ti piace il video fammi un like. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.